La cosiddetta grande coalizione di centro scioglie le riserve e presenta i tre nominativi che si contenderanno alle primarie di domenica 10 aprile il posto di candidato sindaco. La nuova alleanza composta dai democratici per Brindisi, Impegno Sociale, Noi Centro, Partito Repubblicano e Brindisi Prima di Tutto e Conservatori e Riformisti ha scelto per le primarie Pietro Guadaluppi, Angela Carluccio e Vincenzo Bocconi. A fare da battistrada i candidati alle primarie nella conferenza stampa di presentazione di questa mattina, mercoledì 6 aprile 2016, a Palazzo Grana Fenervenia, Salvatore Brigante e Luciano Loiacono, rispettivamente ex consigliere di maggioranza del governo Gonzales ed ex presidente del Consiglio Comunale. Entrambi comunque tesserati con il Partito Democratico ma decisi a correre le prossime elezioni amministrative con le liste civiche della nuova coalizione. In evidente contrasto con le scelte del PD. Con loro anche l'esponente di Noi Centro Toni Muccio. I cittadini dovranno quindi scegliere dal candidato alle primarie per Noi Centro e Brindisi Prima di Tutto, Angela Carluccio, una donna avvocato, figlia dell'ex sindaco di Brindisi, Carluccio, primo cittadino negli anni 80. Conservatori e riformisti schiera Pietro Guadaluppi, figlio del coordinatore cittadino Italo, un giovane volto politico già conosciuto quello di Pietro Guadaluppi per aver ricoperto l'incarico di consigliere comunale di opposizione vicepresidente del consiglio comunale nella scorsa amministrazione. Infine, per impegno sociale, il marisciallo dei carabinieri Vincenzo Bocconi, laureato in scienze dell'amministrazione, attualmente in servizio presso la Marina Militare, ritirata ufficialmente invece la candidatura dei repubblicani di Antonio Dautilia, che non è più candidato, nonostante comunque i repubblicani abbiano aderito alla coalizione. In questa coalizione di centro potrebbero rientrare anche i radicali, che si sono però presi un periodo di riflessione e dentro le primarie di domenica dovrebbero esprimere, se appoggiano o meno, questi tre candidati. Una scelta aperta alle preferenze di appartenenti alla lista, simpatizzanti e semplici cittadini che non dovranno fare altro che recarsi muniti di carta d'identità domenica a 10 aprile dalle 8 alle 20 presso uno dei 13 gazebo disseminati in città quartiere per quartiere e recarsi presso quello presente nel rione del seggio di appartenenza senza corrispondere a nessun pagamento ed esprimere la propria preferenza.